Ho visto un uomo disperato e mi sento di stringermi vicino alla famiglia personalmente come Ulse, personalmente come papà. Sono eventi che segnano anche noi medici. Il direttore della microbiologia del caffoncello a fatica trattiene l'emozione. La morte di Luigi Martignago ha segnato anche lui come medico e come padre. Non siamo macchine, siamo persone e di fronte a certe cose, spiega commosso il dottor Rigoli, siamo profondamente toccati. Poco prima nel suo studio, seduto di fronte a lui, il padre di Luigi, distrutto dal dolore. Il papà è un papà disperato e io sono molto vicino a questo papà che sta soffrendo molto. Luigi Martignago aveva accusato i primi sintomi giovedì. Visitato al pronto soccorso di Montebelluna, la diagnosi era stata di influenza. La febbre era anche andata giù, sono stati dati i farmaci ovviamente per la tachipirina e altri farmaci antinfiammatori per questo episodio influenzale. È stato mandato a casa, il giorno dopo è andato dal medico curante e poi è successo purtroppo il fatto. Lunedì poi le condizioni di Luigi erano precipitate, da qui la corsa al caffoncello. Il ragazzo è arrivato in condizioni gravi, aveva già avuto un arresto cardiaco e quindi è stato rianimato ed è arrivato comunque in condizioni gravi. Domani verrà eseguita l'autopsia sul colpo del ragazzo che dovrà chiarire definitivamente le cause della morte. Le ipotesi che stiamo facendo sono quelle che l'evento sia legato a una miocardite acuta. Dalle descrizioni che ci hanno fatto i familiari e anche dal riscontro del pronto soccorso. Purtroppo la miocardite è un evento abbastanza raro in presenza di influenza da virus. Tuttavia è un evento che accade, che è descritto e può dare delle miocardite di carattere acuto e di carattere cronico. Le miocardite acute sono quelle che possono portare ad eccesso improvviso. Grazie a tutti. Grazie a tutti.